Oroscopo del giorno, martedì 2 marzo 2021 Ariete Amore, questo martedì proseguirà sull'onda della precisione nei rapporti di coppia. Vorrete essere chiari, forse pure troppo, arrivando ad essere un po' puntigliosi con il partner. Anche i single dovranno fare un po' di attenzione in più. Lavoro Potreste fare fin troppa attenzione ai dettagli. Meglio cercare della leggerezza per i progetti. Toro Amore, questa giornata proseguirà molto bene per i sentimenti e le questioni di cuore. Presto le relazioni vivranno un periodo ancora più magico di questo. Insomma, il martedì di marzo sarà tutto da godere per coppie e single. Lavoro Nei prossimi giorni arriveranno belle notizie che vi terranno piuttosto occupati sul lavoro. Gemelli Amore, questa giornata di inizio mese sarà abbastanza tranquilla e serena. Non ci sarà bisogno di aspettarsi grandi cambiamenti o passi in avanti importanti nei rapporti. Per le novità più interessanti si dovrà ancora attendere un po'. Lavoro Occhio a forze ed energie Dovrete dosare bene al momento di agire su determinate cose, a maggior ragione pratiche. Cancro Amore Per oggi non sarà una giornata niente male. Vi converrà a godervi adesso dei momenti spensierati insieme al partner, visto che molto presto il rapporto potrebbe un po' complicarsi. Non sono esclusi nuovi incontri per chi ha il cuore libero. Lavoro Attenzione perché le energie potrebbero cambiare, come potrebbero cambiare i rapporti in ufficio. Leone Amore Sarete determinati e sicuri di voi stessi, quindi questo giorno sarà perfetto per i single che vogliono avvicinarsi a qualcuno. Interessanti stelle pure per chi è impegnato e potrà chiarire una determinata questione con il partner. Lavoro L'energia sarà abbastanza forte, perfetta per dare il meglio nei progetti professionali. Vergine Amore Il primo martedì del mese di marzo sarà un giorno da vivere con massima serenità per le coppie. Difficilmente oggi ci saranno grandi problemi o disagi per i rapporti di coppia. I single potranno impegnarsi ed aprire il loro cuore. Lavoro Dovrete continuare ad impegnarvi a fondo. Nei prossimi giorni qualche risultato entusiasmante. Bilancia Amore In questa giornata potrebbero arrivare emozioni intense grazie anche a luna luna in ottima posizione. Con il partner potrete godervi i sentimenti di coppia. Se invece siete single giocherete un po' distinto nelle nuove conoscenze. Lavoro Sarete particolarmente acuti e questo risulterà un punto fondamentale per ottenere un gran successo lavorativo. Scorpione Amore L'umore di questa giornata potrebbe essere davvero basso e buttare giù tutto l'ottimismo che avete. Ciò potrebbe chiaramente portare delle conseguenze nelle relazioni amorose. I single decideranno di non correre troppo con le nuove emozioni. Lavoro Le energie non saranno troppo alte e i compiti di lavoro potrebbero costarvi un po' di fatica. Sagittario Amore Questa giornata di inizio mese non riserverà particolare passione, grossi cambiamenti o ritrovamenti speciali. Probabilmente bisognerà attendere un po' perché torni davvero il sereno per le coppie, eppure per chi non ha impegni sentimentali. Lavoro L'impegno sarà fondamentale per raggiungere un obiettivo professionale prefissato. Forza Capricorno Amore Tutto bene in casa Capricorno, doveppure chi ha affrontato un momento difficile con il partner, finalmente potrà recuperare. Questa giornata sarà tranquilla per i sentimenti. Potrebbero esserci delle novità per chi è single. Lavoro Dopo il ritrovato equilibrio con l'amore, anche gli impegni di lavoro risulteranno più semplici. Acquario Amore In amore, presumibilmente, tutto filerà in maniera abbastanza liscia. Occhio però ad alcuni pensieri, pure provenienti dall'esterno della relazione, che potrebbero un po' turbarvi. Chi non è impegnato potrebbe pure mettersi alla prova. Lavoro I rapporti con i colleghi non saranno dei migliori. Attenzione a come vi comporterete e a cosa farete. Pesci Amore Momento tranquillo sul fronte sentimentale. Sia che voi siate impegnati in una relazione, sia che non lo siate. Al momento le energie non sembrano delle migliori. Dovrete attendere per vivere qualcosa di più forte. Lavoro Occhio alla troppa fatica sul posto di lavoro. Potreste finire con lo stressarvi in maniera esagerata. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti. Occhio alla troppa fatica sul posto di lavoro.